Frustrati Io sono l'amore del tuo amore Inappagati Amore immaginiamo Scoraggiati Frastornati Sbalestrati Io sono una donna felice, molto felice Sciamannati La morte è finale Insomma, i tipici nevrotici d'oggi Compagni, si, di terapia di gruppo Guarda che delle scuse ha E se l'analista li pianta in asso Guardate che non si sente bene I problemi dovranno risolverli da soli Autogestione Carlo Verdone, Margherita Bui Ma che colpa abbiamo noi? Domenica alle 21 su Canale 5